Ecco, questo è il banco, qua c'è la tesoreria, il nostro tesoriere, il presidente, il dirigente Gianni Canteroro, c'è l'altro dirigente Adriano Gianni Stofaro, qua stanno cominciando a portare l'antipascio, ci troviamo alla Cassina di San Vito Chietino, stiamo festeggiando la festa di Natale di tutti i tesserati della scuola caldo, della vittura sperimentata. Ecco, ci troviamo qua, il tavolo degli allievi giovanissimi, come state ragazzi, per gli di San Vito Chietino, siete pronti per domani? Sì, 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 sono uguali, un piccolo sondaggio, come volete giocare con la classica giallorossa? Bianca, 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 la seconda bianca, io voglio giocare con ciò, gioca, con bianca, bianca, c'ho tutti e due, ma quella è bianca, è che hanno giocato loro. Se domani qualcuno a volo vuole sostituire le fototessere. Se l'arbitro ci passa è quella, se no una... Quella è nera. Sa un bambino? Io che quella abbiamo. Dove se sede perché se no non vediamo la maniata. No, sì, 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 ok. Ecco, sto qua io. E' un bambino? No, no, che penso? Io mangio per quattro persone. A dove sta la maniata? Senti, la maniata. Mi hanno chiesto meno un bambino. Dove lo metti il biglietto? Oh, ma io non c'ho sede. Ma tu già sei più di lui? Il vino? Grazie. Sì, vuoi il biglietto? Ma tu mi sembra, sembra tu? No.